Musica Ciao ragazzi, stiamo iniziando... Buongiorno, buongiorno, stiamo iniziando e stiamo attendendo il supercoach per il discorso iniziale del terzo raduno. Come vi ho detto i ragazzi, i ragazzi appaiono un po' agitati. Poi agitati? C'è, chissà come mai. Oggi vengono abbinate le riserve. Esatto. E quindi sono un pochettino... Io ho rischiato anche la vita più volte, perché hanno provato ad uccidermi per sapere i nomi. Ma ci sono tazza. Ok, stiamo iniziando, quindi ciao a tutti. Il nuovo Stato che si è aggiunto al mondiale FCS, quindi abbiamo, lo Stato è chiuso, come è il neonato, la propria FCS, abbiamo potuto rappresentarlo e dargli una mano un po' nel... Il paese è un paese più ricco, è un paese che paga. Io sto per comunicarvi sia le riserve sia le squadre. Abbiamo, con l'aiuto di Corrado, siamo riusciti a individuare quattro persone che non sono istituzionali, ma sono persone che comunque, dove non può, i giochi sono questi, hanno... Faranno parte sempre del nostro gruppo, però ovviamente non gireranno fino al giorno prima del mondiale, cioè se per caso c'è qualcosa che non va, loro solo allora potranno girare. Iniziamo dai tuoi. Iniziamo dai massimi. Zaccarini Medi Gioacchino Mini Rao E Stoi Galli Però, c'è un però, c'è un però. Perfetto Ah, ho capito. E' vero. E' vero. E' vero per l'Azerba in campo. E' vero. 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 E' vero.